Come si segue il trend su Bitcoin? Come si fa? Quali sono le tecniche più banali, più semplici, ma assolutamente potentissime che possiamo utilizzare? È una domanda che mi avete fatto un po' spesso, quasi sempre, cioè quando io parlo di trend is your friend, quando io parlo di seguire il trend su Bitcoin, come ad esempio in questa fase rialzista o in questa fase di correzione o in questo momento che come vedete un po' Bitcoin sta tentando anche di invertire questo trend al rialzo che era iniziato verso la metà di giugno. Come si fa a comprendere questa cosa? Quali sono quelli che sono gli indicatori più semplici, più facili da utilizzare, ma assolutamente potentissimi e quelli che utilizzo anche io ragazzi dopo un sacco di tempo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Continuiamo questa settimana della settimana della formazione perché abbiamo fatto le offerte per quanto riguarda il summer break friday, il dovute ai corsi di formazione, quindi parliamo anche di cose che riguardano proprio la formazione, la tecnica di investimento e del trading. E quindi ragazzi vi spiegherò in questo video quello che è una tecnica che si basa sulle due medie mobili che utilizzo spesso nei miei video, praticamente da quattro anni, come effettivamente si deve ragionare quando utilizzate una media mobile, qual è il modo corretto di impostare una media mobile e come le utilizzo io queste medie che state vedendo. Questo tipo di tema è poi tra l'altro approfondito nel corso Basic da una lezione bonus che ho creato proprio su come utilizzare le media mobili 11 e 21 che vi insegna un po' a comprendere anche quali sono i modi in cui dovete creare i parametri, mettere i parametri agli indicatori in generale alle medie mobili ed è una lezione anche interessante perché è molto pratica, molto operativa. Ragazzi, allora prima di andare avanti vi parlo delle super offerte summer break friday, mancano solo quattro giorni, ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora nei video di questa settimana. Pack standard premium e master in super offerta già inclusi, ma c'è di più perché sono rimasti gli ultimi coupon, sono solo tre quelli rimasti e probabilmente finiscono oggi. Summer 23, ragazzi, inserite questo coupon, mi raccomando, quando andate in acquisto così avete 50 euro in più rispetto già allo sconto attuale, quindi questo sconto manterrà fino alla fine settimana, poi saranno off fino probabilmente a novembre, poi si vedrà se ci saranno altre offerte e soprattutto ragazzi utilizzate questo coupon perché ne sono rimasti tre, finirà quasi sicuramente oggi perché i numeri sono quelli, diciamo, in standard quindi entro la giornata di oggi probabilmente questi coupon finiranno, però ragazzi utilizzatelo, mi raccomando, non utilizzatelo e poi scrivete in assistenza che vi siete dimenticati il coupon perché diventa un macello, quindi mi raccomando, non vi dimenticate. Allora, Summer Black Friday è il corso Basic 2.0 e poi ci sono anche i moduli stratosferici che vedete qui, Crypto Spread Trading per i super trader, gestione del portafoglio cripto per chi invece vuole un punto di vista anche da investor e poi Mindset Psicologia praticamente strautile a chiunque. Allora, parliamo di questa tecnica ragazzi, primo punto di riflessione che dobbiamo andare a vedere, come si usa una media mobile, intanto il senso della media mobile, quello che avete appreso probabilmente da materiale online gratuito o soprattutto alcuni libri molto molto datati è che la tecnica per utilizzare le media mobili sono salire sul breakout di una media mobile a controtrende oppure aspettare l'incrocio di una media mobile per andare a favore dell'incrocio, quindi in questo caso la media mobile fast che brecca la slow, sono tutte tecniche imperfette, cioè non sono sbagliate nel fatto che si insegnano così ragazzi, ovviamente sono non approfondite, poi ovviamente se trovate materiale del genere gratuito è scritto quasi sempre peggio di un'intelligenza artificiale, quindi è ovvio che nelle spiegazioni e negli approfondimenti bisogna poi andare da soli a cercarsi la propria strada, questa è la questione complicata ragazzi, è quello anche l'importanza dei libri e dei corsi di formazione rispetto al materiale gratuito perché perdete il triplo, il quadruplo del tempo con il materiale gratuito e tanti anni poi a gestire quelle che sono ovviamente le fasi di learning by doing che è quello il concetto, io l'ho fatto ragazzi, quindi vi sto dicendo anche la mia esperienza personale, non vi dico che sbagliate, anzi dovete farlo sempre quello lì, però ricordate la differenza, volete accelerare i tempi chiaramente è per questo che io leggo di continuo, no? è dalla mattina alla sera perché accelero i tempi, alcune cose le faccio sulla mia pelle, altre cose no, quindi corsi e libri per chi vuole accelerare i tempi. Allora, le medie ragazzi sono un indice che rappresenta l'andamento di un asset in un determinato momento in media, quindi se io vado a cancellare in pratica quello che è l'asset in questione e lo vado a nascondere, mi restano solo le due medie mobile, adesso ve ne metto una in pratica che ne facciamo vedere soltanto una che è magari quella a 21, ok, allora in questo caso questa medie mobile ragazzi rappresenta l'andamento senza le shadow, quindi le up e down del mercato e con uno smoothing sul rumore di fondo, cioè le oscillazioni, smoothing significa tagliare quelle cose, quindi appiattire, alleggerire, smussare quella cosa lì. Allora, la media vi dà praticamente un'indicazione di trend, è l'indicatore di trend più indicatore di trend di tutti gli indicatori di trend che esistono, perché vi indica praticamente se sale e il trend resista, quindi qui il trend resiste. Il problema dov'è? Il problema è che qui per esempio prendiamo l'ultima fase di Bitcoin, in questo punto noi non abbiamo idea se il trend stia invertendo e poi inizia a fare una cosa del genere. Non lo sappiamo ancora, però è questo il punto in cui noi dobbiamo andare a prendere le posizioni operative, quindi è qui che il trader deve giocarsi la partita, perché che succede? Se io aspetto e mi gioco la partita qui va bene pure, però sostanzialmente poi rischio che il mercato va a farmi una cosa del genere e questo lo avete visto mille volte, se siete trader e avete ragionato avete visto questi atteggiamenti, quindi un po' c'è questa fase di rischio. Allora come faccio ad andare a prendere poi una posizione in base al momento attuale? Non al fatto che se io disegno un trend qui, voi vedete che è partito, diciamo ah bello, era facile, era facile quando siete qui avete visto che esiste, ma quando siete in questa fase e il trend non si è ancora delineato, non sappiamo se fa così di nuovo o se fa così, allora non si è ancora delineato. Come faccio io in questa fase piatta a prendere la posizione. Allora la media ragazzi, molti usano quel discorso che vi dicevo, quindi il prezzo che brecca la media e va giù della media, allora segnale di passista, brecca va su, segnale di alzista, la media più veloce che interseca mi sta dicendo che sta. Allora tutte queste cose sono completamente inutili perché in sostanza si possono bypassare, basta guardare le candele che si muovono, quindi il prezzo in generale e poi avete già una direzionalità anche di quello che le medie vi danno, perché le medie è un indicatore ritardato, cioè va a smussare il mercato e questo è un pregio, ma allo stesso tempo un solo difetto. Quindi se noi andiamo a utilizzare una media estremamente veloce perché vogliamo un segnale più veloce, ma poi sostanzialmente questo segnale più veloce si riempie di rumore come il prezzo, allora perché utilizzate la media e non serve a niente? Quindi la media più veloce che interseca la più breve è anche piena degli errori che la media stessa vuole eliminare, quindi è un paradosso, è un super paradosso di quelli proprio alla Avengers ragazzi, va bene? Super paradosso. Quindi la problematica è che utilizzare le medie in quel modo non è che è sbagliato, ma è imperfetto. Vi faccio un esempio, cioè sempre a poco, qui la media è intersecato, vedete questo è stato un trend molto importante, la media è intersecato qui, quindi io se volessi andare a vedere qual è quando la media breve ha intersecato la media più lenta è da questa candela che ha ripreso posizione, cioè in pratica all'opening di questa candela di aver ripreso posizione è in sostanza a 30.000 dollari, cioè in pratica saremmo fermi avendo perso l'intero movimento. Questo perché la media arriva troppo tardi e il concetto di utilizzare una media fast che interseca la breve è in pratica inutilizzabile nei mercati moderni, soprattutto nei mercati veloci come le cripto. E allora che come facciamo ragazzi? Le medie si possono utilizzare anche in un altro modo, perché una media ragazzi può essere non soltanto un livello di indicazione del trend, ma anche un livello sul quale il mercato stenta ad andare o comunque a romperlo in maniera profonda, perché sotto quel livello il trend lo inverte. Quindi noi potremmo anche utilizzare la media non come un segnale di ingresso, ma come un segnale che il trend sta invertendo, che è quello che un po' di più è rappresentativo della media mobile, cioè la media mobile ci deve indicare quando il trend sta cambiando, non ci deve dare un segnale di ingresso e uscita dal mercato, perché è un indicatore lento e la struttura statistica di questo indicatore è creata per darci quel segnale, cioè privarci della oscillazione del rumore, che si definisce così, farci vedere il segnale il più possibile smussato e quindi quando questo segnale sta invertendo io provo ad andare a favore di quel trend invertito. Se viene confermato dal mercato avrò ragione, altrimenti stop loss. Quindi in sostanza ragazzi le media mobile possono essere utilizzate anche come livelli di supporto o di resistenza, e cioè quando i prezzi intraprendono un trend, come vedete è direnato in questo caso, anzi facciamo così, ve lo faccio vedere come esempio sul grafico a un week, quindi grafico settimanale è più pulito e vi spiega meglio queste cose. Allora, quando i prezzi intraprendono, vedete, un nuovo trend, solo dopo lo vediamo, quindi intersegano le medie e vanno su, quindi non è un'intersezione di poco conto, ma rilevante, cioè non è un'intersezione come questa ragazzi, vedete che è piccolina, ma devono essere delle intersezioni importanti, imponenti o che durano più giorni, ma se vengono mantenute per qualche giorno poi il mercato torna giù, non funziona e questo è una questione tecnica, fidatevi ovviamente tutti gli approfondimenti nel video non si possono fare ragazzi, per quello poi c'è il corso, ci sono le lezioni del corso perché è complicato darvi tutti gli approfondimenti necessari, però sostanzialmente, fidatevi delle mie parole, l'intersezione delle medie deve essere duratura, quindi più giorni, ma anche importante, quindi deve avere una distanza considerevole, diciamo, da questa fase qui. Per farlo poi si usano delle tecniche utilizzando la volatilità, per esempio, in quel caso, ma entriamo appunto nelle approfondimenti rilevanti di queste tecniche qui. Una volta che è iniziato un trend, queste due medie mobili, vedete, quando intersecano, diventano aria di supporto, quindi questa zona qui è un'aria di supporto, non è più un livello di resistenza come era precedentemente, ed entrambe queste medie identificano non un cambio trend, ragazzi, quando i prezzi ci vanno a sbattere, bensì un livello di supporto, capite bene cosa cambia? Cambia tutto, perché nel momento in cui io vedo il prezzo che va a bucare una media, la prima parte della media e si appoggia in quell'aria, non è che devo andare contro trend, non è che devo andare short, ma devo andare long, in questo caso, su questa operazione, perché questo è un livello medio giusto, dove il mercato può riprendere una fase di trend e riprovarci nuovamente. Vi faccio questo esempio in questo momento, proprio perché siamo in una fase tecnica molto importante di Bitcoin, può essere interessantissimo anche nei prossimi giorni, valutatelo voi stessi proprio nella realtà dei fatti in live, non con disegni proprio sui grafici nei prossimi giorni, questo è il grafico settimanale, perché quello che vi sto dicendo è questo, se queste due medie reggeranno o meno, allora noi avremo la continuazione di questo trend di Bitcoin, vedete, al rialzo, ma quando e se queste medie dovesse iniziare a venire meno, inizieranno, inizieranno diciamo ad avere un concetto di inversione di trend. Guardate bene che queste sono due medie che io in questo momento ho posizionato e utilizzo per il daily, non per il weekly, ve li sto facendo vedere per darvi un'idea, poi quali parametri vanno utilizzati per identificare queste due medie è un argomento estremamente importante da approfondire, vi ripeto, l'ho trattato in maniera molto più approfondita nel corso ed è, vi do delle chicche in questo video così potete farlo anche voi a casa, chiaramente dipende dalla struttura ciclica, ve lo dico in maniera un po' così, quindi le medie mobili per esempio sul daily io le ho settate a 11.21 perché voglio delle medie veloci che mi diano il trend, quindi il movimento del mercato sul daily che riguarda 20 giorni circa, 10-20 giorni ragazzi, quindi metà mensile, un mensile più piccolo, sono più brevi perché ho bisogno di velocità, quindi questo è un discorso poi da trader, nel grafico daily è più difficile, quindi io questo esempio ve lo faccio giusto per farvi capire come le dovete settare nel momento in cui volete vedere per esempio un time frame, un trend di di qualche giorno, 2-3 giorni non va bene, il daily bisogna scendere a un grafico per esempio di 2 ore e settare delle medie che non siano quelle a 11 periodi ma dovete farvi il calcolo che riguardino magari un giorno o due in modo tale che vi possano dare una rappresentazione del trend di un giorno, due giorni di bitcoin, non di 10-15 giorni, quindi i parametri degli indicatori ragazzi non possono essere settati sempre nello stesso modo, bisogna settarli in base a quelle che è l'orizzonte della vostra scelta di investimento del trend eccetera, capite bene quante peculiarità ci sono e perché molti non comprendono la potenza dell'analisi tecnica perché non la sanno usare, questo è il discorso e quindi poi ci sono una serie di confusioni notevoli. Allora queste due medie utilizzando, ritorniamo al grafico weekly che è più pulito per farvi gli esempi, utilizzandola a livello di supporto o di resistenza ci indicano in pratica una media mobile lenta e una media mobile veloce che ci indicano le aree dove il prezzo può andare a rigirarsi, quindi a tornare all'interno di quelle aree per poi riprendere la via del trend, ma non ci indicano un'inversione di trend, bensì un'area by the tip in maniera molto semplice, guardate quello che è successo per esempio in tutta la storicità e vi ripeto queste due medie sono tarate per il grafico daily, se volete quelle tarate per il grafico weekly ve le faccio vedere e sono queste due, queste sono tarate per il grafico weekly, sono più lente come vedete, quindi qui una volta che è stata superata questa è stata la struttura vedete qui dove il prezzo ha tentato 2019, qui siamo ragazzi, la fase di ripresa, poi pandemia boom, ma questo è pandemia ragazzi, se non ci fosse stata probabilmente questa fase così bassista non l'avremmo mai vista pronunciata, magari sarebbe stato un atteggiamento anche qui di posizionamento come fatto poi nei giorni precedenti prima dell'eventuale bull run, ma badate bene, guardate come regge, reggono queste due medie come area di supporto e come reggono anche nelle strutture di ribasso delle chiusure dei cicli, queste sono due medie cicliche, non sono tarate in base al grafico, sono tarate in base ai cicli che in questo caso sono un anno e sei mesi, questo qui sono i due cicli che vengono tarate, quindi non è che le ho fatte in base a bitcoin ragazzi, è bitcoin che segue queste medie, non è il contrario, vedete qui cosa ha cambiato? In questo caso vedete l'area di supporto nel 2022 è venuta meno, boom, venendo meno quest'area di supporto, questa zona qui che consisteva in pratica nell'area temporale di gennaio 2022, febbraio 2022 ha indicato l'inversione del trend rispetto ai cicli passati, cioè in pratica dalla struttura della pandemia fino a gennaio 2022 il mercato aveva, bitcoin aveva mantenuto il suo trend e queste due medie erano state tutte by the dip che poi è venuto solo in questo caso e in questa zona qui, tutte by the dip, in questa zona il by the dip è stato stoppato, in pratica stop loss, perché il mercato ha invertito, ma attenzione cosa ha dato il mercato? Un altro segnale, aria di resistenza, e sì perché queste due medie utilizzate in questo modo nel momento in cui poi inverte il trend di mercato diventano l'area di supporto d'aria di resistenza, il gioco è lo stesso, cioè quando il mercato e il prezzo si avvicina a quelle due medie può riprendere il trend, se invece le rompe quelle due medie ragazzi inverte il trend, quindi vi ho spiegato come si capisce in pratica utilizzando due medie in maniera molto più approfondita del solito come seguire un trend di bitcoin in questo caso, nell'attuale situazione in questo punto quando vedete la struttura era venuta meno, qui il trend era bearish e basta c'era poco da fare, non ha mai invertito fino a quando ragazzi, fino a questa fase di rialzo, cioè fino a questa candela qui, cioè la candela dove io ho fatto anche il video, ve l'ho portato sul canale dove vi dicevo attenzione questo segnale per la prima volta ha sempre funzionato, marzo 2023, da questa candela in poi il trend di bitcoin è diventato rialzista e ora queste due aree, queste aree tra le due medie diventano un'area di supporto e non più di resistenza, da qui in poi quindi se il mercato dovesse andare all'interno di queste due aree, per esempio diciamo nella chiusura del ciclo annuale che potrebbe avvenire nei prossimi mesi su bitcoin potrebbe essere un'area di acquisto e di diciamo buy nell'aspettativa che il mercato possa riprendere questo trend, nelle precedenti burran difficilmente ha superato quei livelli, perché in pratica non ha più toccato le medie, guardate qui proprio è difficile che sia entrato all'interno di quest'area, anche per questo si possono utilizzare, vedete, delle medie un po' più giovincelle, più piccole per avere delle altre aree che sono molto più veloci e molto più rischiose, che però sono nel breve delle aree di buy the dip, in questo caso vedete come è stato fatto un cambio più veloce, invece di aspettare marzo saremmo, avremmo visto un cambio di trend a gennaio, questo si può fare utilizzando le medie più brevi e però bisogna essere consapevoli di quello che state facendo e quindi andare a ragionare il fatto che state inserendo rumore, inserendo imperfezioni, se lo sapete ve lo sapete anche usato. Bene ragazzi, allora vi ho insegnato come si usano queste due medie e soprattutto perché le utilizziamo anche nei miei video da una vita, vi consiglio di fare dei test, fatelo a casa, provate, vedete come vi trovate, iniziate ad aprire la mente, open your mind su questi concetti e badate bene quanta superficialità c'è in quello che avete letto e studiato probabilmente se non l'avete approfondito. Lasciatemelo scritto nei commenti perché io sono sicuro che molti di voi questa lezione, questa diciamo idea, questo modo d'uso delle medie non l'avevano mai sentito, avevano letto solo le bagionate colossali che circolano online, capite bene qual è la differenza, scrivetemi nei commenti quello che pensate, provate a utilizzare, provate a trovare le vostre medie, i vostri parametri, fate questo lavoro a casa, learning by doing, vi ricordo di nuovo la promo summer Black Friday che scade fra 4 giorni, il coupon, gli ultimi 3 erano 3 fino a quando stavo registrando, rimasti utilizzateli o comunque inseriteli se non ci più non ve lo dà, ci sono 50 euro di sconto in più, non vi lasciate scappare questa occasione se volete approfondire, noi ci rivediamo nel prossimo video, ciao a tutti.